Sindaco e Presidente Anci, soprattutto in questo caso, le autostrade abruzzesi sono sempre un po' al centro dell'attenzione per difficoltà varie. Cantiere sulla 14 e pedaggi molto cari sulla 24 e la 25. Sulla 14 abbiamo preso atto di questa risposta del Ministro Salvini che sposta ancora una volta in avanti la risoluzione del problema. Addirittura altri due anni di lavori annunciati, comunicati, dopo tante promesse che sono state disattese. Il territorio non può più sostenere questa situazione che è inaccettabile, i sindaci più volte nel corso di questi anni hanno sollevato questa problematica e le rassicurazioni dell'ultimo governo evidentemente sono state smentite proprio dalle parole del Ministro Salvini. Noi chiediamo quindi certezza sui tempi, interventi immediati, lavori che siano compatibili con una situazione che riduca al minimo il disagio. A questo punto, perché no, si valuti seriamente ed è una questione seria, visto che c'è un protrarsi di questi disagi con una situazione veramente di paralisi in alcune giornate, in alcuni momenti della giornata, in alcuni tratti della 14 abruzzese, anche l'azzeramento del pedaggio. Perché se questi lavori si protraggono e di fatto rendono invivibile e insostenibile il traffico autostradale, a questo punto si azzeria il pedaggio. Tema dei pedaggi che ovviamente riguarda anche l'altra questione, l'altra autostrada, quindi l'autostrada per Roma 24-25. Anche qui tante promesse, tanti annunci da parte del governo, ma oggi ancora la situazione resta immutata. Quindi pieno sostegno a tutti i sindaci di un territorio che peraltro in gran parte, in larga parte, è un territorio che rientra su quell'area all'interno del cratere sismico, quindi vive ulteriori sofferenze e difficoltà. È una ricostruzione che sta ripartendo con dei costi assolutamente autostradali insostenibili e inaccettabili. Quindi un doppio binario, diciamo così, autostradale in questo caso di battaglia che l'Anci sostiene nei confronti di un governo che deve dare risposte.